Una quarantina di oggetti per ripercorrere tendenze, innovazioni e originalità del design contemporaneo. È questo il tema della mostra Over Design Over, materia, tempo, natura, inaugurata ieri nei locali della Rocca Paolina di Perugia. Un'esposizione a cura di Marco Rainò e Andrea Margaritelli che fa parte del progetto Infinita Città per la stagione culturale 2008-2009 del comune di Perugia. Il percorso espositivo che si estende per circa 600 metri quadrati all'interno della Rocca Paolina è composto da progetti realizzati da 44 designer di profilo internazionale, scelti tra i grandi nomi già affermati e tra i giovani emergenti. Tre le sezioni introdotte da altrettanti designer che ne spiegano le caratteristiche, Michele De Lucchi per l'ambito materia, Enzo Mari per la parte dedicata al tempo e Andrea Branzi per ciò che riguarda la natura. L'allestimento concepito su misura per la mostra si compone di strutture ideate attorno agli oggetti esposti arricchite da contributi video e scenografie realizzate attraverso modulazioni di luce. Un itinerario che offre un notevole impatto visivo e che fa da stimolo a una riflessione critica sul design contemporaneo. La mostra rimarrà aperta fino al 13 aprile.